Musica Ci siamo attivati per questa emergenza, siamo in contatto con le istituzioni e abbiamo il supporto della Fondazione OTB. Abbiamo inviato una mappatura a tutte le associazioni per raccogliere tutte le attività che stiamo facendo. Ci è arrivata una richiesta d'aiuto concreta da parte dell'associazione Ponte Miste, un'associazione che a più di vent'anni si occupa del popolo ucraino, in particolare di bambini, di famiglie e quindi abbiamo accettato la richiesta d'aiuto anche perché hanno contatti diretti anche col Ministero dell'Interno. Abbiamo avviato una campagna di raccolta fondi con la Rete del Dono e stiamo organizzando dei pullman che partiranno lunedì mattina per il confine con la Polonia e per portare a casa le prime cento persone. Io credo che mai, come in questo momento, sia importante che ciascuno faccia la sua parte ma facendo Rete e come uno slogan che contraddistingue il volontariato insieme per fare la differenza in questo momento è fondamentale unire le forze tutti insieme per un obiettivo comune. Ieri abbiamo avuto questa chiamata e ci siamo resi subito disponibili per la partenza già subito domani mattina noi partiremo praticamente con due autobus, quindi cinque autisti e saliremo su verso il confine polacco, insomma verso il confine con l'Ucraina e dopo riscenderemo e altri due pullman praticamente risaliranno, quindi scenderemo giù con duecento persone verso Vicenza, insomma. Perché ci sentiamo tutti un po' nel cuore questa cosa e dunque la chiamata si risponde subito con un grosso sì, insomma. Lui dice che spera tanto che tra poco tempo riesce a tornare e vince Ucraina, quello che dice Pimbo. Per lui è molto importante che tutti i suoi, il suo fratello e la sua nonna rimangono vivi e che diventa il pace. Da una parte la preoccupazione di dove stanno andando, dall'altra la gioia che elegi nei loro occhi per ritornare a casa e le lacrime anche per tutta l'ospitalità, l'accoglienza che hanno ricevuto da queste famiglie italiane. Le famiglie sono preoccupate, però sanno di aver dato in questi mesi tanto, di aver dato casa a queste persone che avevano proprio bisogno di calore umano. Scappate dalla guerra, oggi ritornano, ritornano perché chiamati dall'Ucraina. Infatti questo viaggio è stato organizzato proprio dal sindaco Digitomer, sono 85 persone che partono e speriamo in bene cosa possiamo aggiungere. Siamo veramente orgogliosi come comunità vicentina di questa nostra risposta a un'emergenza così importante. Grazie a tutti.